Natuzza non ha mai predetto il futuro, al contrario ha sempre affermato che soltanto Dio può conoscerlo. Sono queste le poche ed eloquenti parole con cui Don Michele Cordiano, il padre spirituale della mistica Natuzza Evolo, smentisce con forza le voci che da qualche giorno, immediatamente dopo il forte sisma che ha colpito l'Abruzzo, circolano stranamente e insistentemente sulla mistica di Paravati. Ogni riferimento a Natuzza tiene a sottolineare padre Cordiano circa la previsione di un terremoto in Calabria nei prossimi giorni di maggio e falso. Mamma Natuzza, come sono soliti chiamarla i tantissimi fedeli che affollano ogni giorno la sede della fondazione Cuora Immacolata di Maria Rifugio delle Anime, dove vive la mistica, non è una chiaro veggente, ma un'umile serva di Dio e della Madonna, uno strumento docile nelle loro mani per la conversione delle anime. E alla parola di padre Cordiano ci permettiamo di avvicinare la frase che la stessa mistica di Paravati ha scelto per la home page del sito della fondazione Cuora Immacolata di Maria Rifugio delle Anime. E cosa certa quel che vi dico, tutto ciò che chiedete nella preghiera abbiate certezza che è già vostro, perché così dovrà avvenire per volere della Madonna. San Francesco di Paola